Buonasera a tutti carissimi amici, eccoci di nuovo tra noi e sono molto felice di riprendere le trasmissioni e di essere tutti insieme questa volta per trattare un argomento particolarmente importante, è un argomento che io ho già trattato in un recente congresso qui a Roma, un congresso internazionale organizzato dal professor Greco qui a Roma e sono stato appunto invitato a parlare del problema della recettività endometriale, dell'endometrio, quindi il titolo proprio era strategie per migliorare la recettività endometriale. Quindi uno degli argomenti più importanti, voi sapete quanto ne parliamo, quanto ne abbiamo parlato, ma io credo che sia giusto parlare con voi questa sera non solo di una cosa così importante, ma di una cosa importante con tutte le attualità più aggiornate, scientificamente più avanzate che io ho, diciamo così, esposto ai medici, agli esperti nel settore. Ma questa cosa invece questa volta vorrei farla ai pazienti e è un po' se vogliamo una sfida, perché non è facile tradurre in termini semplici quello che invece sono argomenti molto complessi e sicuramente per i medici, questa volta lo voglio fare davvero per i pazienti. quindi il titolo è strategie per migliorare la recettività endometriale, ossia tutte quelle cose che noi dovremmo o potremmo cercare di fare per aumentare la recezione da parte dell'endometrio degli embrioni che poi vanno all'interno o sono inseriti all'interno dell'utero. ecco, intanto che cos'è la recettività endometriale? Diciamo che la capacità dell'endometrio di supportare, di aiutare le interazioni, cioè i rapporti degli embrioni ovviamente con il trofoblasto, meglio dell'endometrio con il trofoblasto, cioè quelle cellule che stanno proprio dell'embrione, che stanno intorno alla parte più interna dell'embrione quello che poi diventerà praticamente il feto. Quindi l'interazione iniziale tra l'endometrio e la parte esterna dell'embrione che poi sarà la placenta. E questo può avvenire, questo può avvenire quando, non è che sempre, ma solamente in un ben preciso periodo di tempo che noi chiamiamo finestra di impianto. Che cos'è quindi? Il periodo di tempo in cui è possibile una corretta interazione, un rapporto corretto, cioè quel periodo in cui l'impianto è possibile, prima del quale e dopo il quale l'impianto non è più possibile, anche se l'embrione è normale, l'embrione è buono. E qual è questo periodo? Questo periodo, in un ciclo di 28 giorni, va dal ventesimo al ventiquattresimo giorno del ciclo. Logicamente esiste questa finestra di impianto anche quando si fa la fecondazione in vitro, però in realtà, essendo che poi è un ciclo un po' diverso, non possiamo più parlare esattamente tra venti e ventiquattresimo giorno di questo ciclo, ma una cosa è certa, che probabilmente questa finestra endometriale consiste di quattro giorni. Prima e dopo di questi quattro giorni l'impianto non può avvenire. Quindi vediamo qui uno schema proprio dell'endometrio, come potete vedere, e in un ciclo normale, se al quattordicesimo giorno c'è l'ovulazione, vedete, tra il ventesimo e il ventiquattresimo giorno è possibile l'impianto. Questo è l'endometrio, per cui a un certo punto l'embrione si deve trovare a contatto con l'endometrio al momento giusto, cioè quando lui è già sviluppato, in questo caso a livello di blastocisti, si deve trovare appunto in quest'area dell'endometrio, in questo periodo di tempo, tra il ventesimo e il ventiquattresimo giorno del ciclo. Ma che cosa si è visto poi per quello che a noi ci riguarda? Che nei fallimenti ripetuti dell'impianto, molto spesso, si calcola all'incirca nel 25% dei casi, c'è un ritardo di questa finestra dell'impianto di due o più giorni. Quindi, se noi inseriamo l'embrione, quando noi normalmente riteniamo sia il momento giusto, e in realtà in quei casi c'è un ritardo, uno spostamento in avanti della finestra dell'impianto, davvero si rischia che l'embrione a quel punto non riesce più a svilupparsi. E ci sono tutta una serie di ricerche scientifiche, anche recenti, che ci dicono proprio questo. Allora, a un certo punto, quali sono però noi ci dobbiamo chiedere, ci dobbiamo chiedere quali sono le condizioni che riducono la recettività endometriale? Cioè, cos'è che diminuisce la possibilità che l'embrione, diciamo così, si impianti a livello dell'endometrio? Un poco come la chiave con la propria serratura. La serratura deve essere aperta affinché la chiave possa entrare. La chiave a sua volta deve essere quella giusta, ma potrebbe essere quella giusta ma non trovare la serratura aperta. Ecco, questo è il concetto che volevo dire. Allora, quando è che questa serratura può essere chiusa, ossia che la recettività endometriale non c'è o è ridotta? In tutta una serie di situazioni che io vi elenco qui. Per esempio, quando c'è un'endometrite, cioè un'infezione o una infiammazione cronica, cioè di lunga data soprattutto, dell'endometrio. Quando c'è una sactosalpinge, e noi sappiamo questi ingrossamenti delle tube che alla fine creano dei problemi nell'endometrio perché questo liquido che sta all'interno della tuba poi tende a scendere in basso verso l'endometrio e rende l'endometrio poco recettivo. Quando ci sono anche dei fibromi o miomi sottomucosi, cioè sotto l'endometrio. Quando c'è un utero setto e quando c'è anche, per esempio, un aumento della contrattilità uterina che potrebbe disturbare, diciamo così, l'attaccamento dell'embrione all'endometrio. Per esempio, è come quando uno gli tremano le mani e non riesce a inserire la chiave nella toppa della serratura. Oppure, per esempio, a volte è ridotta la recettività endometriale nell'endometriosi. Oppure, ancora, quando c'è un aumento prematuro del progesterone. E di questo ne parlerò abbastanza perché è un qualche cosa che purtroppo avviene con una certa frequenza durante la stimolazione ovarica e non ce ne rendiamo conto se non misuriamo il progesterone durante la stimolazione. Ma ne parleremo tra poco. Quindi, ecco, questo è un altro punto importante. Quando e come noi ci rendiamo conto che c'è una riduzione della recettività dell'endometrio, cioè come facciamo a capire che ci sono tutte quelle condizioni che abbiamo visto prima. Qui c'è una domanda che ricevo da parte di Cinzia, che quindi voleva sapere se il transfer si deve eseguire a 20 giorni, cioè quando sta allo stadio di blastocista a 20 giorni. Questo è teorico, però poi in realtà esattamente quando si deve fare il transfer noi non lo stabiliamo sempre in base ai giorni, vero, del ciclo. Perché un ciclo potrebbe essere più lungo, un altro più corto. Quello che conta, veramente, nel determinare i giorni in cui è opportuno fare il transfer sono i giorni in cui l'endometrio è stato influenzato, trattato, stimolato dal progesterone. Ossia, ci deve essere un numero di giorni, né troppi né troppo pochi, in cui l'endometrio è stato sottoposto all'influenza del progesterone. Questo è il marcatempo, non tanto i giorni del ciclo. Io per semplificare vi ho spiegato in termini di giorno del ciclo, di un ciclo di 28 giorni, come stanno le cose, che cos'è la finestra di impianto e quando c'è. Ma comunque capiremo ancora meglio questo fra un poco. Giù si voleva sapere come si risolve in caso di sacto salpinge la situazione, ma poi di questo ne parleremo anche dopo. Adesso a me quello che interessa è spiegare come si fanno a capire quelle situazioni in cui ci potrebbe essere una ridotta recettività dell'endometrio, perché poi dobbiamo fare la terapia ovviamente. Quindi, endometrite è la prima cosa. Come si fa a diagnosticarla? Certamente con un'isteroscopia, ci aiuta tanto. con la coltura dell'endometrio, cioè la famosa endometrio-coltura, e anche con una biopsia e con la ricerca delle plasmacellule che ci indicano una infiammazione, non dico infezione necessariamente, ma almeno una infiammazione. La sacto salpinge, come si diagnostica? Si diagnostica o con una ecografia pelvica, meglio ancora con una laparoscopia, quindi celioscopia, ma questo è un intervento vero e proprio. ma generalmente con una ecografia pelvica fatta bene è possibile diagnosticare il sacto salpinge. I miomi sottomucosi, che quindi stanno tra il miometrio e l'endometrio, sono un'altra situazione che può ridurre la recettività endometriale. Come si fanno a diagnosticare? Con l'isteroscopia e l'ecografia. Per quanto invece riguarda l'uterosetto, anche qui isteroscopia ed ecografia, ma un'ecografia tridimensionale che ci fa capire bene, diciamo così, se ci troviamo di fronte a un uterosetto, oppure ci troviamo per esempio di fronte a un utero arcuato, nel qual caso non si deve operare. L'aumento della contrattilità uterina. Purtroppo esami specifici e semplici per questo non ci sono. Dobbiamo però sapere che esiste la contrattilità uterina eccessiva che potrebbe ostacolare l'impianto dell'embrione. e poi ci sono dei mezzi, degli strumenti per cercare di ridurla. L'endometriosi, sappiamo che la diagnosi è la laparoscopia, ma anche l'ecografia, fatta bene, ci può dire tante cose sull'esistenza di endometriosi. E poi c'è questo famoso spostamento, in genere avanzamento, della finestra di impianto, e questa può essere diagnosticata oggi con alcuni strumenti molto avanzati. Possono essere o degli esami genetici, oppure anche con una biopsia, una biopsia e quindi un'istologia, una biopsia istologica, quindi una diagnosi istologica, dell'endometrio, che ci dice la data, cioè in che giorno esattamente si trova l'endometrio. e quindi ci dà un'idea abbastanza precisa se è quella, diciamo così, la giornata giusta oppure no perché l'embrione possa trovare l'endometrio al momento giusto nelle condizioni migliori. E poi noi dobbiamo diagnosticare, dobbiamo capire se c'è un aumento prematuro, precoce del progesterone durante la stimolazione. E l'unico modo di poter fare questo è di misurare il progesterone durante la stimolazione. Questo è fondamentale. Vedete, queste sono le dinamiche ormonali nel corso di una normale ciclo mestruale. Vedete qui alcuni ormoni molto importanti, in particolare in blu vedete l'estradiolo che sale, sale, continua a salire a un suo picco al momento dell'ovulazione, poi si mantiene sempre molto alto dopo l'ovulazione, ma soprattutto vedete il progesterone il progesterone che fino al tredicesimo giorno del ciclo, di un ciclo normale, cioè un giorno prima dell'ovulazione è basso dopodiché comincia un pochino a salire ma non troppo non troppo quindi vedete che già al quindicesimo giorno quando c'è l'ovulazione al massimo è arrivato a due quindi praticamente non deve essere troppo alto prima dell'ovulazione perché altrimenti fa trasformare l'endometrio in endometrio secretivo che rende l'endometrio troppo precoce per l'embrione quindi vedete che già la natura fa le cose fatte bene e infatti proprio parlando di questo progesterone troppo alto prima dell'ovulazione cioè in caso di fecondazione assistita prima del pick up una serie di ricerche oramai enormi sterminate io qui ho solamente messo alcuni degli autori degli scienziati dei ricercatori più importanti che hanno dimostrato in modo incontrovertibile questo fenomeno che ci sono percentuali di gravidanze ridotte con un progesterone troppo elevato il giorno dell'HCG cioè il giorno della gonasi tutti questi ricercatori hanno dimostrato che se il progesterone era troppo elevato il giorno dell'HCG le percentuali di gravidanza si riducevano drasticamente quindi oramai sono delle cose direi più che accertate qui era quello che vi dicevo che praticamente noi ci potremmo chiedere ma qual è la percentuale di casi in cui durante la stimolazione questo progesterone può essere troppo alto e quindi disturbare rendere l'endometrio poco recettivo ebbene tutta una serie di ricerche hanno dimostrato che questo può avvenire in una percentuale non piccola di cicli compresa fra il 5 e il 50% a seconda delle situazioni a seconda del tipo di risposta in particolare alla stimolazione e infatti il primo il primo lavoro scientifico che ha dimostrato questo è stato pubblicato nel 2010 su ben 4.000 cicli già di fecondazione assistita a cura del gruppo IVI di Valencia dove hanno proprio fatto vedere come un progesterone che superava 1,5 nanogrammi per millilitro conduceva a una riduzione vedete qui a sinistra delle percentuali di gravidanza quindi fino a 1,5 percentuali di gravidanza normali abbastanza elevate quando il progesterone superava 1,5 il giorno della gonasi cominciavano a cadere più era alto più le percentuali di gravidanza cadevano naturalmente questo poi è stato ulteriormente diciamo così dimostrato verificato controllato e confermato questo è un lavoro più recente ancora dove è stato fatto anche qui quasi su 4.000 cicli di fecondazione in vitro e si è visto che questo livello poteva un po' variare anche a seconda della risposta ovarica e loro avevano trovato che questo livello nei loro cicli di fecondazione assistita era di 1,75 nanogrammi per millilitro questo è un lavoro del 2014 e questo questo praticamente fenomeno è stato ulteriormente controllato in un lavoro scientifico del 2015 ancora una volta veniva dimostrato quello questo che vi ho detto in oltre 11.000 cicli quindi di fecondazione assistita quindi oramai è schiacciante la dimostrazione di questo fenomeno con loro trovavano una riduzione delle percentuali di gravidanza già quando il progesterone era 1 naturalmente ci possono essere delle differenze tra un lavoro scientifico e un altro però si è anche visto che anche a seconda questo valore cambiava anche a seconda diciamo così del periodo in cui veniva fatto il transfer 1 si riferiva al giorno 3 del transfer e invece i valori erano di 1,75 quando il transfer avveniva al quinto giorno del ciclo scusate al quinto giorno di sviluppo dell'embrione quindi al livello di blastocisti quindi io vado anche un pochino avanti leggendo qualche domanda che nel frattempo voi mi ponete e in particolare una domanda di Francesca a quale giorno si si somministra il pronto si misura il progesterone quando si è in stimolazione allora sicuramente si deve misurare il giorno della gonasi ma in realtà è bene misurarlo già molto prima perché ma perché noi cominciamo ad accorgerci se questo progesterone sta salendo e ci possiamo tentare cercare di prevenire la salita del progesterone con tutta una serie di interventi di farmaci di diciamo così strategie che poi era questo anche il senso della mia relazione per cercare di non farlo arrivare a quei livelli soglia a quei livelli di pericolo che io vi ho vi ho detto ma andiamo andiamo avanti andiamo avanti e che cosa diciamo che diciamo che ci sono state poi tutta una serie di dimostrazioni in questo senso io non ve la sto a fare lunga con le evidenze di tipo genetico però hanno confermato a vari livelli che questo endometrio era alterato quando c'era una risalita eccessiva del progesterone in una fase precoce però ci possiamo e ci dobbiamo chiedere e tutti i ricercatori se lo sono chiesti ma questo aumento del progesterone che abbiamo visto influisce negativamente può influire negativamente sull'endometrio può influire negativamente anche sull'embrione la domanda è molto giusta è molto pertinente però non era così semplice non è così semplice dimostrarlo andiamo a vedere che cosa è stato visto anche su questo ebbene è uscito questo nel 2016 un lavoro scientifico proprio su questo su oltre 4000 cicli di fecondazione in vitro in cui i cinesi dimostravano che un aumento del progesterone il giorno un aumento eccessivo del progesterone valori elevati di progesterone il giorno della gonasi produceva una riduzione di qualità degli embrioni al transfer in terza giornata e già questo è un qualcosa che ha cominciato a preoccupare perché se il progesterone troppo elevato durante la stimolazione influisce negativamente sulla sull'endometrio e influisce negativamente anche sull'embrione e beh insomma la questione è abbastanza preoccupante e ci dobbiamo e ci dobbiamo dare da fare qui c'è un'altra domanda un'altra domanda io vado così abbraccio perché mi piace insomma a un certo punto credo che sia utile no non solo dare soddisfazione alle persone che chiedono ma anche proprio essere puntuali nella risposta a delle cose concrete a delle cose precise a partire dalle cose teoriche che io vi sto raccontando Sandra ha fatto 9x e probabilmente si chiede se questi fallimenti potrebbero essere dovuti a queste cose che io vi ho raccontato ma certo che possono essere dovute a questo e se noi in realtà il progesterone non lo abbiamo non abbiamo i dati del progesterone non potremo mai sapere se quei fallimenti sono dovuti sono stati causati da un aumento eccessivo da un aumento eccessivo del progesterone cioè abbiamo perso le tracce e dunque non potremo mai scoprirlo in quei cicli di prima certo potrebbe essere dovuto ad altre cose che poi possiamo andare a guardare dopo ma non riusciremo a capire quello che è successo prima quindi purtroppo questo è un qualcosa di cui noi dobbiamo sempre vero tener conto ecco come questi ricercatori cinesi dimostrano che la percentuale diciamo così di embrioni di massima qualità trasferita non erano poi in grado di produrre la gravidanza quando il progesterone era superiore a 2 nanogrammi per millilitro il giorno della gonasi vedete come cadono le percentuali di di embrioni di alta qualità quando il progesterone è troppo elevato prima del pick up cioè il giorno della gonasi cioè proprio diminuisce la percentuale vedete qui di embrioni della massima qualità questi visti al terzo giorno del ciclo attenzione che poi in realtà questo è un lavoro recentissimo si può dire dell'anno scorso fatto su quasi mille cicli a cura di un centro italiano questa volta perché pure noi non è che diciamo non siamo non siamo capaci di fare ricerche di alto livello o di essere al top ecco hanno dimostrato che quando il progesterone era troppo elevato il giorno della gonasi c'era una diminuzione della percentuale anche di blastocisti di buona qualità insomma ancora una volta come se questo progesterone troppo elevato diciamo così influisse sulla qualità degli embrioni in questo caso anche delle blastocisti e qui vedete come questo fenomeno si è cominciato a intravedere in maniera significativa quando il progesterone il giorno della gonasi era superiore a 1,5 nanogrammi per millilitro qui c'è Sara che chiede che avendo i tamponi di urioplasma negativi la XI era andata male e nel centro non gli hanno fatto dosare il progesterone eh sì perché voglio dire le cose devono essere tutte valutate tutte viste per carità i tamponi vaginali i tamponi cervicali sono importantissimi non ci deve essere l'infezione però non è l'unica cosa che poi conta nella gravidanza cioè noi dobbiamo cercare nei limiti del possibile si capisce no di quello che si conosce di quello che noi siamo in grado di fare di controllare tutte le situazioni che possono influire sui risultati lo dobbiamo fare con impegno con meticolosità investendo tempo investendo energie perché altrimenti quello che ci sfugge potrebbe alla fine rivelarsi la causa del fallimento andiamo avanti quindi questa questione del progesterone è stata anche evidenziata soprattutto anche nei modelli animali quindi voglio dire sono delle cose che sono state viste anche negli animali non solamente sugli uomini ma meglio sulle donne perché si è visto che proprio l'elevazione eccessiva e precoce del progesterone anche negli animali riduceva la qualità delle blastocisti quindi possiamo alla fine concludere che una salita eccessiva del progesterone durante la stimolazione può influenzare negativamente sia l'endometrio che gli embrioni quindi in modo particolare si è visto che questo fenomeno è particolarmente diciamo così di risalita eccessiva del progesterone è particolarmente presente in quei casi di fallimenti ripetuti dell'impianto ma è logico questo un po' aspettarselo perché perché purtroppo le diciamo così questo aumento precoce ed eccessivo del progesterone diciamo così avviene soprattutto in certe persone cioè come se certe persone fossero più come dire sensibili a quest'aumento prematuro e troppo precoce e troppo eccessivo del progesterone e allora sono forse proprio le persone che poi fanno più fallimenti di tentativo tanto è vero che appunto questo aumento prematuro eccessivo del progesterone è stato rinvenuto maggiormente soprattutto da parte di questi ricercatori in questo caso cinesi in chi aveva fallito più volte allora naturalmente naturalmente ci sono insomma vari modi per cercare di ridurre diciamo così questo fenomeno noi abbiamo sviluppato nel tempo tutta una serie di strategie per ridurre o abolirlo completamente devo dire che ci siamo riusciti quasi completamente perché io ricordo prima questo fenomeno avveniva almeno nel 25 o 30 per cento dei casi adesso l'abbiamo ridotto da un paio d'anni due tre anni almeno a meno del 5 per cento quindi siamo particolarmente contenti di questo come si fa ci sono vari modi tra questi per esempio quello di modulare in maniera particolare la stimolazione quindi adesso io vi mostro praticamente un estratto di una stimolazione così giusto per capirsi insomma vedete qui ci sono i livelli del progesterone era 0,2 qui qui si stavano facendo 200 unità di gonadotropine non ricordo se è gonalef oppure forse pure ed era 0,2 a un certo punto il giorno dopo il giorno dopo l'abbiamo trovata a 0,7 quindi era questo è l'estradiolo e quindi già eravamo eravamo in allarme che cosa abbiamo fatto abbiamo ridotto i le dosi di gonadotropine abbiamo fatto anche altre cose però poi qui voi potete vedere come praticamente da 0,7 il progesterone è andato a 0,2 e quindi questa manovra insieme ad altre ci ha consentito di controllare il progesterone e questo ci fa capire come è molto importante monitorare costantemente tante cose come appunti non solo i valori dell'estradio vedete qui ma anche quelli del progesterone oltre ad altri va bene un'altra un'altra domanda un'altra domanda è quando si fa il transfer da congelato quanto dovrebbe essere allora nel transfer da congelato quindi embrioni che poi si scongelano il problema in pratica non sussiste perché? perché noi non stiamo facendo una stimolazione noi non stiamo facendo una stimolazione e dunque non si può verificare questo aumento precoce prematuro del progesterone e noi siamo in grado di controllare molto meglio il progesterone perché il progesterone nel sangue comincia ad esserci nel momento in cui noi lo diamo dall'esterno quindi riusciamo a controllare bene questa questione del progesterone tanto è vero che in molti casi funziona meglio il transfer da scongelato che non quello da congelato e che non scusate quello da fresco proprio per questo proprio per questo fatto qui quindi mi si chiede quale dovrebbe essere il valore ideale del progesterone allora voi avete visto voi avete visto che io vi ho citato alcuni valori e io mi attengo a questi valori diciamo che i valori che cominciano a preoccupare sono quelli da uno in poi il giorno della gonasi e certo che poi se è superiore a 1,5 stiamo messi male insomma quindi dobbiamo cercare di controllare poi può anche succedere che sia superiore anche a questi valori questo non esclude attenzione qua vorrei essere chiaro non esclude la gravidanza la riduce però riduce le probabilità di impianto e io dico ma scusate se noi siamo in grado di controllare questi valori ma perché non lo dobbiamo fare perché non ci dobbiamo mettere in una zona in un'area di sicurezza almeno per escludere che ci sia questa interferenza e questo è possibile naturalmente con una personalizzazione dei trattamenti delle stimolazioni del monitoraggio andiamo avanti quindi quali possono essere le strategie per ridurre l'elevato progesterone durante la stimolazione intanto non eccedendo nelle dosi di gonadotropine cioè di farmaci per la stimolazione poi il cosiddetto costing che cos'è? è quello di non fare più diciamo così stimolazione con gonadotropine l'ultimo giorno i due ultimi due giorni in modo che questa aiuta non fa salire troppo il progesterone o addirittura anticipare il pick up voglio dire se noi vediamo che se noi vediamo che il progesterone sta salendo sta salendo troppo pericolosamente e i follicoli ancora non hanno raggiunto quelle dimensioni ma noi possiamo anche decidere di fare il pick up un po' prima uno o due giorni prima al rischio di trovare dei follicoli un po' più piccoli di quanto avremmo voluto eh ma noi dobbiamo essere pronti a questo cioè ad anticipare il pick up come? intanto misurando sempre il progesterone durante la stimolazione però poi anche essere pronti a fare il pick up cioè non è che siccome il pick up cade di domenica faccio per dire nel weekend eh noi non agiamo non facciamo il pick up se il progesterone sta rischiando di salire troppo non esiste cioè noi dobbiamo essere pronti a anticipare il pick up ma ovviamente non si può anticipare se non siamo in grado di controllare quello che sta succedendo quindi riassumendo il progesterone da 1,5 in poi il va bene riduce il giorno dell'HCG riduce progressivamente progressivamente non abolisce progressivamente riduce probabilità di gravidanza e probabilmente negativo anche per l'embrione quindi le dosi ridotte di gonotropina di farmaci possono entro certi limiti diciamo così evitare evitare questo e comunque se ripeto non si riesce in nessun modo a frenare questo progesterone monitorandolo cioè misurandolo almeno lo sappiamo che era elevato e abbiamo un'idea di quale potrebbe essere la causa del fallimento nel caso in cui poi dobbiamo fare altri tipi di trattamento o comunque ripetere insomma il trattamento diciamo che diciamo che c'era una strategia per la quale se il progesterone era troppo alto il giorno della gonasi qualcuno ha detto va bene però noi possiamo fare ugualmente il pick up congeliamo gli ovociti o gli embrioni e poi li trasferiamo in un ciclo normale quando il progesterone non è elevato e quindi l'endometria è normale sì questa potrebbe essere una strategia però abbiamo anche visto che il progesterone elevato durante la stimolazione può influire negativamente pure anche sugli embrioni quindi è una strategia purtroppo poco a mio avviso ma non solamente a mio avviso praticabile detto questo che io ci tenevo molto sul progesterone ecco poi c'è lo scratch endometriale ne abbiamo tanto sentito parlare ebbene oggi come oggi possiamo dirlo che lo scratch endometriale cioè questa stimolazione dell'endometrio che si fa il ciclo precedente alla fecondazione in vitro può far aumentare le percentuali di gravidanza perché potrebbe rendere l'endometrio più recettivo e oramai c'è una notevolissima produzione scientifica su questo e diciamo così gli autori di questo database enorme che si chiama Cochrane sugli studi più importanti su un certo argomento in questo caso lo scratch endometriale concludono che questa stimolazione endometriale che si fa prima del ciclo in cui viene fatto il transfer dell'endometrio migliora le percentuali di gravidanza cliniche e anche i nati di chi fa la fecondazione in vitro e qui insomma altre ricerche che dimostrano questo e adesso c'è in corso una ricerca enorme e dovrebbe essere pubblicata tra non molto che dovrebbe mettere e dare una parola definitiva al valore dello scratch endometriale come io ve l'ho raccontato quindi conclusioni conclusioni sulle strategie adesso terapeutiche per migliorare la recettività endometriale cioè che cosa dobbiamo fare per migliorare la recettività endometriale è logico se c'è un endometrite dobbiamo fare una terapia antibiotica se c'è questo sacco salpinge e dobbiamo asportare questa tuba o queste tube che ormai non funzionano e che sono solo fonte di danni all'endometrio i miomi o fibromi sotto mucosi possono essere asportati in genere per via isteroscopica l'uterosetto può essere eliminato sempre per via isteroscopica con un intervento che si chiama resettoscopia l'aumento della contrattilità uterina può essere entro certi limiti gestita con dosi abbondanti di progesterone ovviamente dopo il pick up non prima perché se no ricadiamo in quel problema di prima e con altri farmaci che possono ridurre la contrattilità uterina ovviamente l'endometriosi bisogna cercare di trattarla anche farmacologicamente e poi altra cosa molto importante se la finestra dell'impianto si sposta in avanti che cosa possiamo e dobbiamo fare? allora si possono crioconservare gli embrioni o gli ovociti e si può fare il transfer quindi nel ciclo successivo però dobbiamo sapere qual è la vera finestra dell'impianto perché può essere che anche nel ciclo successivo in cui trasferiamo gli embrioni scongelati li trasferiamo in un momento in cui la finestra d'impianto non è quella giusta non è nel tempo giusto allora attualmente quello che si può fare è fare un ciclo di prova come se noi dovessimo fare una preparazione dell'endometrio e dovessimo trasferire gli embrioni facciamo una biopsia dell'endometrio in quella in quel caso in quella situazione in cui potremmo trasferire gli embrioni e andiamo a vedere se quello è il giorno giusto o con una datazione istopatologica dell'endometrio o con altri diciamo così strumenti di tipo biologia molecolare genetica per vedere se l'endometrio è recettivo abbiamo visto abbiamo visto abbiamo visto l'aumento prematuro del progesterone che quindi per evitarlo bisogna modulare la stimolazione e poi per i fallimenti ripetuti dell'impianto certamente lo scratch endometriale è qualcosa che può aiutare infatti Roberta qui ci chiede se dopo un fallimento bisogna ripetere lo scratch certo che bisogna ripetere lo scratch perché lo scratch è valido per un mese quindi per il ciclo successivo quindi se il ciclo successivo non ripete non funziona certo che dobbiamo ripetere lo scratch endometriale allora io a questo punto avrei finito spero che sono stato abbastanza chiaro naturalmente questi sono degli spunti di riflessione però importanti che vorrei che voi rifletteste metabolizzaste e poi naturalmente io sono disponibile a domande che vi sono venute spontanee e di chiarimento poi ai casi singoli specifici perché io ho fatto un discorso generale però poi ogni caso è a sé è la famosa personalizzazione che o noi oramai siamo in grado di ancora una volta sottolineare e poi farà la parte che deve fare io vi ringrazio tutti mi ha fatto veramente piacere essere di nuovo con voi e arrivederci arrivederci a presto grazie